Gentili telespettatori, buona giornata. Francesco Verdirami, editorialista del Corriere della Sera, difende la manovra economica di Giorgia Meloni dicendo ma le polemiche sono surreali e motiva poi queste sue parole così. Sono polemiche surreali, dice, mentre è ospite nel salotto di controcorrente su Rete4 da ospite di Veronica Gentili. Si parla della finanziaria manovra legge di bilancio, chiamatela un po' come volete, e parla degli attacchi del collega Piero Sansonetti al governo Meloni. E così Verdirami, che è uno degli opinionisti di politica più importanti in Italia, dice trovo surreali queste polemiche sulla manovra rispetto all'accusa rivolta da Sansonetti che la definisce senza visione la manovra, dico che questa è una manovra che non poteva avere visione. Questa è una finanziaria emergenziale, non tanto per i tempi in cui è stata fatta, ma per quello che doveva fare, ovvero tamponare questa fase di crisi legata al conflitto e all'aumento del gas. Sul fatto che la manovra abbia scontentato tutti, bisogna dire che su ogni manovra, di ogni governo, i sindacati hanno protestato, Confindustria ha protestato, i pensionati hanno protestato, e questo Sansonetti lo sa. Da qualche parte questi soldi dovevano pur andare e sono andati per cercare di gestire alla meno peggio il problema dell'energia. Poi su questo si innestano tutta una serie di provvedimenti che sono spot verso una parte dell'elettorato che ha votato il centrodestra. Ma la domanda che mi pongo, dice dopo aver sentito gli altri magistrati della Corte dei Conti, è ma è con il caffè al bar che noi abbiamo una sorta di indice di mancati pagamenti di tasse e quindi di evasione che ci pongono ai vertici purtroppo dei paesi occidentali? E perché paghiamo il caffè al bar con i contanti e non con il bancomat che abbiamo questo buco di bilancio che invece potrebbe essere colmato se le tasse venissero pagate? Io penso che questi temi siano ascrivibili alle polemiche politiche che inevitabilmente avvengono ogni volta che c'è una legge di bilancio. Se questa finanziaria sta attaccando i poveri all'ora delle due l'una o dà i soldi ai ricchi e quindi dovrebbe essere contenta confindustria. Oppure questo non avviene. Ogni categoria ha i suoi interessi da portare avanti ma prima c'è l'emergenza e secondo non ci sono i soldi. Beh dice delle cose assolutamente sensate verde rami. Tutti i soldi di questa manovra la maggior parte vanno verso il taglio delle bollette. Quei pochi soldi che rimangono vengono aumentate le pensioni minime. Non ci sono dei soldi che vengono dati ai ricchi contro i poveri. Ci sono dei soldi che vengono dati per aumentare le pensioni minime. E poi ci sono quelle bandierine che vengono date per i partiti. Vedi la Lega, il contante, la flat tax fino a 85.000 euro. Sono dei contentini che la Meloni ha dato a Salvini per staccarlo da Berlusconi. Direi stai con me che io ti faccio realizzare le tue cosine così poi c'hai qualche lettore in più. Ecco quindi la Meloni ha capito perfettamente chi è e come è fatto Salvini e cerca di gestire questa persona nel migliore dei modi. Vi ho sempre detto che alcuni tipi di persone è impossibile gestire. Lei ci sta provando. Ci sta provando a tirarlo dalla sua parte come dire io ti faccio realizzare le tue cose ma tu non devi ostacolarmi con quell'altro. Non dare retta a quell'altro. Quello degli appunti a favore di macchina fotografica. Si vedono bene? Ecco che roba. Berlusconi ci ha regalato dei momenti parlamentari eccezionali. Dalla nipote di Mubarak agli appunti a favore di telecamere ai finti video rubati. Berlusconi se voi andate indietro nel tempo ci ha regalato tanti di quei magic moment no? Vi ricordate l'editto bulgaro quando lui faceva fuori giornalisti dalla tv di stato? Quando faceva le corna nelle fotografie in Europa. Insomma il personaggio Berlusconi ne in 30 anni ne ha fatte. Un giorno faranno qualche documentario vedrete su Berlusconi. Simpatico è simpatico però a volte quando hai un ruolo istituzionale di quel tipo andare a fare le corna in Europa insomma non sei alla foto di classe all'ultima foto di classe delle superiori. Ricordo l'ultimo giorno di classe delle superiori. Ho voluto tenerlo impresso nella mente mi ricordo proprio l'aula gli ultimi momenti. Vita vissuta sprazzi così di non di bellezza perché insomma la bellezza di alcuni momenti è soggettiva come sono poeta oggi. Un poeta così da quattro soldi. Comunque quello che dice Verderami è una persona tra le poche che riesce a esprimere dei giudizi senza muri ideologici. Chi sono queste persone che in Italia riescono ad esprimere dei giudizi quasi quasi perché non possono essere completamente liberi da muri ideologici. Abbiamo Verderami che scrive sul Corriere, abbiamo Cacciari l'ex sindaco di Venezia del PD, abbiamo Lameloni e molto pochi altri, abbiamo Crosetto, Nordio, abbiamo Bruno Vespa che tenta di essere imparziale, Giovanni Floris che tenta di essere imparziale. Sono proprio pochi, pochi pochi, quelle persone che ti possono dare la loro opinione indipendentemente che il fatto sia ascrivibile a destra, a sinistra, ecco vi danno delle opinioni sincere di quello che pensano. Naturalmente Verderami come tante altre persone hanno delle preferenze politiche, però quando devono valutare i fatti non riescono a fare i tifosi, non riescono a parteggiare. Forse vi sarete accorti che anch'io non riesco a fare il tifoso di nessuno. A me può piacere oggi un politico ma quando dice o fa qualcosa che non mi quadra ve lo dico e tanti si cancellano. Ma come il professore parla male di quel politico che fino a ieri lo osannava? Sì, perché io posso parlare bene di quel politico fin quando fa delle cose che mi piacciono, che reputo giuste. Quando fa una cretinata vi dico questa è una cretinata senza se e senza mai, si sta arrampicando sugli specchi per fare dei compromessi politici. A quel punto il tifoso, quello che si cataloga al di là o al di qua di un muro ideologico non lo può accettare. Sapete quanti si cancellano nei video dove io critico la Meloni? Dove critico il centrodestra? Perché vanno in tilt, non riescono più a capire ma il professore da che parte sta. Il professore sta dalla sua parte, dalla parte della razionalità. Il professore tenterà di non raccontarvi mai balle o perlomeno quelle cose che vi racconta le crede realmente, non perché deve sostenere nessuno. Grazie a tutti e arrivederci.